Ciao ragazzi! Siamo qua? Io voglio insegnarvi come fare il genitore. E' facile, sa? Metiti giù per terra. Stenditi bene, mi raccomando. Tieni sulle braccia. Stiamo a farmi vedere. E' facile, ti sono legante. E poi devi fare le addomani. E' molto facile. E' molto importante. Quando hai genito, non ci sono problemi. Un po' di straccia. Hai visto? Tutto questo. E questa è meglio in famiglia, meglio in famiglia, più in forma. Faccielo. Non c'è, non c'è, non c'è.